Sì, diciamo che la moto è sempre stata mia passione già da piccolo, infatti ho iniziato con il motorino, poi 125 e via dicendo, per cui la moto rimane una passione e il bello della Ducati è che c'è una storia dietro, per cui quello che mi piace tanto della Ducati è una storia, poi ho iniziato con una moto comoda, come il multistrada, per cui da fare viaggiare, fare turismo, così divertirsi, perché ti puoi anche divertire, però cercavo una moto sportiva perché la moto sportiva mi ha sempre affascinato, per cui la moto sportiva è sempre quello che ti dà quell'emozione quando la vedi e soprattutto anche quando ci sale. Moto Argento ha colpito la sua organizzazione, la sua perfezione nell'organizzare, nel far vedere il prodotto, per cui le varie moto, e poi anche la competenza di Fabio, per cui ci ha mai spiegato per filo e per segno come erano le moto, la storia delle moto, conosceva perfettamente la storia della moto, per cui mi ha colpito questa cosa. Poi quando mi ha fatto visitare tutta la struttura, compreso anche l'officina, dove facevano gli ammortizzatori così, mi ha colpito e ho detto che è veramente una persona sede che lavora come si deve. Mi ha colpito molto di come preparano la moto, infatti man mano che la moto veniva preparata mi arrivavano i messaggi con le fotografie mentre facevano la manutenzione, non so come chiamarlo, i controlli, i vari controlli, per cui tutti questi controlli mi venivano già forniti man mano che li facevano, per cui mi ha colpito che erano proprio stati fatti e che venivano fatti in un certo modo, e poi la moto quando l'hanno consegnata era impeccabile. L'avevo già vista che era bella e tutto quanto, perché ho visto solo cose belle, però nonostante quello l'hanno consegnata che era praticamente perfetta. Ma io lo consiglierei anche perché faccio parte del gruppo di motociclisti qui di Concorezzo e la consiglierei perché è veramente una, Fabio è una persona molto seria, è competente e ti sa consigliare veramente la moto che fa per te. Per cui lo consiglierei perché la mia esperienza è stata molto molto positiva. Moto Argento è specializzata nella vendita di moto super sportive e naked, ed oltre alle vendite offriamo una vasta gamma di servizi per coccolare e migliorare la tua moto. Moto Arte Vendita Moto Museo Tutto questo è Moto Argento, amore, passione, dedizione, sempre!